no no come rassegnarmi e perché se avessi qualche dovere verso altri forse sì ma non ne ho e allora perché stammi a sentire tu non puoi darmi torto nessuno ragionando così in astratto può darmi torto quello che sento io senti anche tu e sentono tutti perché avete tanta paura di svegliarvi la notte perché per voi la forza le ragioni della vita viene dalla luce del giorno dalle illusioni della luce il buio il silenzio vi atterriscono e accendete la candela ma vi par triste triste quella luce di candela perché non è quella la luce che ci vuole per voi il sole il sole chiedete angosciosamente il sole voi altri perché le illusioni non sorgono più spontanee con una luce artificiale procacciata da voi stessi con mano tremante come la mano trema tutta la vostra realtà vi si scopre fittizia inconsistente artificiale come quella luce di candela e tutti i vostri sensi vigilano tesi con il spasimo nella paura che sotto questa realtà di cui scoprite la vana inconsistenza un'altra realtà non vi si riveli oscura orribile la vera un alito che cos'è che cos'è questo scricchiolio e sospesi nell'orrore di quell'ignota attesa tra brividi e sudorini ecco davanti a voi in quella luce vedete nella camera muoversi con aspetto e andatura spettrale le vostre illusioni del giorno guardatele bene hanno le vostre stesse occhiaie infiate e acquose e la gellezza della vostra insonnia e anche i vostri dolori artritici sì il rodio sordo dei tofi alle giunture delle dita e che vista che vista assumono gli oggetti nella camera sono come sospesi anch'essi in una immobilità attonita che vi inquieta dormivate con essi lì attorno ma essi non dormono stanno lì così di giorno come di notte la vostra mano li apre li chiude per ora domani li aprirà e chiuderà un'altra mano chissà quale altra mano ma per loro è lo stesso tengono dentro per ora i vostri abiti vuote spoglie appese che hanno preso il grinzo le pieghe dei vostri ginocchi stanchi dei vostri gomiti aguzzi domani terranno appese le spoglie aggrinzite d'un altro lo specchio di quell'armadio ora riflette la vostra immagine e non ne serva traccia non servirà traccia domani di quella d'un altro lo specchio di per sé non vede lo specchio è come la verità ti pare che io farnetichi che parli a mezz'aria ma là che tu mi intendi e intendi anche più che io non dica perché è molto difficile esprimere questo sentimento scuro che mi domina e mi sconvolge tu sai come ho vissuto finora sai che ho provato sempre ribrezzo, orrore di darmi comunque una forma di rapprendermi, di fissarmi anche momentaneamente in essa ho fatto sempre ridere i miei amici per le tante come le chiamate, alterazioni già, alterazioni dei miei connotati ma avete potuto riderne perché non vi siete mai affondati a considerare il mio bisogno sbaglioso di presentarmi a me stesso nello specchio con un aspetto diverso di illudermi di non essere sempre quell'uno di vedermi un altro ma sì che ho potuto alterare sono arrivato è vero anche a radermi il capo per vedermi calvo prima del tempo e ora mi sono raso i baffi lasciando la barba o viceversa ora mi sono raso baffi e barba o mi sono lasciato crescer questa ora in un modo ora in un altro a pizzo spartita sul mento a collana ho giocato coi peli gli occhi, il naso, la bocca, gli orecchi il torso, le gambe, le braccia le mani non ho potuto mica alterarli truccarmi come un attore di teatro ne ho avuto qualche volta la tentazione ma poi ho pensato che sotto la maschera il mio corpo rimaneva sempre quello e invecchiava ho cercato di compensarmi con lo spirito ah con lo spirito ho potuto giocare meglio voi pregiate sopra ogni cosa e non vi stancate mai di lodare la costanza dei sentimenti e la coerenza del carattere e perché? ma sempre per la stessa ragione perché siete vigliacchi perché avete paura di voi stessi cioè di perdere mutando la realtà che vi siete data e di riconoscere quindi che essa non era altro che una vostra illusione che dunque non esiste alcuna realtà se non quella che ci diamo noi ma che vuol dire domando io darsi una realtà se non fissarsi in un sentimento rapprendersi irrigidirsi incrostarsi in esso e dunque arrestare in noi il perpetuo movimento vitale far di noi tanti piccoli e miseri stagni in attesa di putrefazione mentre la vita è flusso continuo incandescente indistinto vedi è questo il pensiero che mi sconvolge e mi rende feroce la vita è il vento la vita è il mare la vita è il fuoco non la terra che si incrosta e assume forma ogni forma è la morte tutto ciò che si toglie dallo stato di fusione e si rapprende in questo flusso continuo incandescente e indistinto è la morte noi tutti siamo esseri presi in trappola staccati dal flusso che non si arresta mai e fissati per la morte dura ancora per un breve spazio di tempo il movimento di quel flusso in noi nella nostra forma separata staccata e fissata ma ecco a poco a poco si rallenta il fuoco si raffredda la forma si dissecca finché il movimento non cessa del tutto nella forma irrigidita abbiamo finito di morire e questo abbiamo chiamato vita io mi sento preso in questa trappola della morte che mi ha staccato dal flusso della vita in cui scorrevo senza forma e mi ha fissato nel tempo in questo tempo perché in questo tempo potevo scorrere ancora ed essere fissato più là almeno in un'altra forma più là sarebbe stato lo stesso tu pensi eh sì prima o poi ma sarei stato un altro più là chissà a chi e chissà come intrappolato in un'altra sorte avrei veduto altre cose o forse le stesse ma sotto aspetti diversi diversamente ordinate tu non puoi immaginare l'odio che mi ispirano le cose che vedo prese con me nella trappola di questo mio tempo tutte le cose che finiscono di morire con me a poco a poco odio e pietà ma più odio forse che pietà è vero sì caduto più là nella trappola avrei allora odiato quell'altra forma come ora odio questa avrei odiato quell'altro tempo come ora questo è tutte le illusioni di vita che noi morti d'ogni tempo ci fabbrichiamo con quel po' di movimento e di calore che resta chiuso in noi del flusso continuo che è la vera vita e non s'arresta mai siamo tanti morti affacendati che ci ludiamo di fabbricarci la vita ci accoppiamo un morto e una morta e crediamo di dar la vita e diamo la morte un altro essere in trappola qua caro qua comincia a morire caro comincia a morire piangi eh piangi e sguizzi avresti voluto scorrere ancora sta bonino caro che vuoi farci preso coagulato fissato durerà un pezzetto sta bonino affinché siamo piccini finché il nostro corpo è tenero e cresce e non pesa non avvertiamo bene d'essere presi in trappola ma poi il corpo fa il groppo cominciamo a sentirne il peso cominciamo a sentire che non possiamo più muoverci come prima io vedo con ribrezzo il mio spirito di battersi in questa trappola per non fissarsi anch'esso nel corpo già leso dagli anni e appesito scaccio subito ogni idea che tenda a raffermarsi in me interrompo subito ogni atto che tenda a divenire in me un'abitudine non voglio doveri non voglio affetti non voglio che lo spirito mi si indurisca anch'esso in una crosta di concetti ma sento che il corpo di giorno in giorno stenta vie più a seguire lo spirito irrequieto casca casca i ginocchi stanchi le mani grevi vuole il riposo glielo darò no no non so non voglio rassegnarmi a dare anch'io lo spettacolo miserando di tutti i vecchi che finiscono di morire lentamente no ma prima non so vorrei far qualche cosa ad enorme ed inaudito per dare uno sfogo a questa rabbia che mi divora vorrei perlomeno vedi queste unghie affondarle nella fascia ad ogni femmina bella che passi per via stuzzicando gli uomini aizzosa che stupide miserabili e incoscienti creature sono tutte le femmine si parano si infronzolano volgono gli occhi ridenti di qua e di là mostrano quanto più possono le loro forme provocanti e non pensano che sono nella trappola anch'esse fissate anch'esse per la morte e che pur l'hanno in sé la trappola per quelli che verranno la trappola per noi uomini è in loro nelle donne esse ci rimettono per un momento nello stato di incandescenza per cavar da noi un altro essere condannato alla morte tanto fanno e tanto dicono che alla fine ci fanno cascare ciechi infocati e violenti nella loro trappola anche me anche me ci hanno fatto cascare anche me ora di recente sono perciò così feroce una trappola infame se l'avessi veduta una madonnina timida umile appena mi vedeva chinava gli occhi e rossiva perché sapeva che io altrimenti non ci sarei mai cascato veniva qua per mettere in pratica una delle sette opere corporali di misericordia visitare gli infermi per mio padre veniva non già per me veniva per aiutare la mia vecchia governante a curare a ripulire il mio povero padre di là stava qui nel quartierino accanto e si era fatta amica della mia governante con la quale si lagnava del marito imbecille che sempre la rimbrottava di non essere buona a dargli un figliuolo ma capisci com'è quando uno comincia a irrigidirsi a non potersi più muovere come prima vuol vedersi attorno altri piccoli morti teneri teneri che si muovano ancora come si muoveva lui quando era tenero tenero altri piccoli morti che gli somiglino e facciano tutti quegli attucci che lui non può più fare è uno spasso lavar la faccia ai piccoli morti che non sanno ancora ad esser presi in trappola e pettinarli e portarseli a spassino dunque veniva qua mi figuro diceva con gli occhi bassi arrossendo mi figuro che strazio deve essere per lei signor Fabrizio vedere il padre da tanti anni in questo stato sì signora le rispondevo io sgarbatamente e le voltavo le spalle e me ne andavo sono sicuro adesso che appena voltavo le spalle per andarmene lei rideva tra sé bordendosi il labbro per trattenere la risata io me ne andavo perché mio malgrado sentivo d'ammirar quella femmina non già per la sua bellezza era bellissima e tanto più seducente quanto più mostrava per modestia di non tenere in alcun pregio la sua bellezza la ammiravo perché non dava al marito la soddisfazione di mettere in trappola un altro infelice credevo che fosse lei e invece no non mancava per lei mancava per quell'imbecille e lei lo sapeva o almeno se non proprio la certezza doveva averne il sospetto perciò rideva di me rideva di me che l'ammiravo per quella sua presunta incapacità rideva in silenzio nel suo cuore malvagio e aspettava finché una sera fu qua in questa stanza ero al buio sai che mi piace veder morire il giorno ai vetri di una finestra e lasciarmi prendere e avviluppare a poco a poco dalla tenebra e pensare non ci sono più pensare se ci fosse uno in questa stanza si alzerebbe e accenderebbe un lume io non accendo il lume perché non ci sono più sono come le seggiole di questa stanza come il tavolino le tende l'armadio il divano che non hanno bisogno di lume e non sanno e non vedono che io sono qua io voglio essere come loro e non vedermi e dimenticare di essere qua dunque ero al buio ella entrò di là in punta di piedi dalla camera di mio padre dove aveva lasciato acceso un lumino da notte il cui barlume si soffuse appena appena nella tenebra quasi senza dire darla attraverso lo spiraglio dell'uscio io non la vidi non vidi che mi veniva addosso forse non mi vide neanche lei all'ulto agitò un grido finse di svenire tra le mie braccia sul mio petto chinai il viso la mia guancia sfiorò la guancia di lei sentì vicino l'ordore della sua bocca nell'ante e mi riscosse alla fine la sua risata una risata diabolica lo qua ancora negli orecchi rise rise scappando la malvagia rise della trappola che mi aveva atteso con la sua modestia rise della mia ferocia vinta ed altro rise che seppi dopo è andata via da tre mesi col marito promosso professor di liceo in Sardegna vengono a tempo certe promozioni io non vedrò il mio rimorso non lo vedrò ma ho la tentazione in certi momenti di correre a raggiungere quella malvagia e di strozzarla prima che metta in trappola quell'infelice cavato così a tradimento da me amico mio sono contento di non aver conosciuto mia madre forse se l'avessi conosciuta questo sentimento feroce non sarebbe nato in me ma da che mi è nato sono contento di non aver conosciuto mia madre vieni vieni entra qua con me in quest'altra stanza guarda questo è mio padre da sette anni sta lì non è più niente due occhi che piangono una bocca che mangia non parla non ode non si muove più mangia e piange mangia imboccato piange da solo senza ragione o forse perché c'è ancora qualche cosa in lui un ultimo resto che pur avendo la settantasei anni principiato a morire non vuole ancora finire non ti sembra atroce restare così per un punto solo ancora preso nella trappola senza potersi liberare egli non può pensare a suo padre che lo fissò settantasei anni addietro per questa morte la quale tarda così spaventosamente a compirsi ma io io posso pensare a lui e penso che sono un germe di quest'uomo che non si muove più che se sono intrappolato in questo tempo e non in un altro lo debbo a lui piange vedi piange sempre così e fa piangere anche me forse vuole essere liberato lo libererò qualche sera insieme con me ora comincia a far freddo accenderemo una di queste sere un po' di fuoco se ne vuoi approfittare no eh mi ringrazio sì sì andiamo andiamo fuori andiamo fuori amico mio vedo che tu hai bisogno di rivedere il sole per via